Buongiorno, Siamo ben trovati appuntamento di mercoledì 27 giugno 2018 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, la lettura dei quotidiani, partendo come sempre dalle prime pagine dei giornali abruzzesi. Siamo all'edizione di Pescara del centro, il titolo principale riguarda la cronaca, l'operazione di due giorni fa della guardia di finanza che aveva arrestato 5 persone nell'ambito di un'inchiesta sull'estorsione. Pizzo ai negozianti, vedete il ticotolo, tocca agli indagati, oggi gli interrogatori di Michele Rossoni e figli, c'è anche l'accusa di spaccio, questo è il titolo di apertura. Vedete poi a centropagina come sempre la fotonotizia che questa volta riguarda la pista ciclabile, sporca a pulirla, ci pensano i volontari, l'iniziativa della Lega Abruzzese Antidroga. E poi andiamo a vedere le cronache, le altre notizie che arrivano da Pescara e dall'area metropolitana. La provincia Pescara bussa soldi e vende le case e poi Montesilvano la denuncia, il cimitero è nel degrado. E poi lo sport, in primo piano si parla del Pescara, sta per partire la nuova stagione della formazione biancazzurra, ma il presidente Sebastiani continua a parlare di cessione della società, almeno del 70% del pacchetto azionario fino a questo momento. Però operazione che non è andata in porto. Vediamo altre notizie, sempre dalla prima pagina del centro, dossier Istat Abruzzo, salgano 86 mila le famiglie in povertà e poi nuovi orari all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, si potrà volare anche per Barcellona e dunque verso la Spagna con tre voli a settimana. Vediamo in alto un titolo che riguarda le recenti amministrative, ma soprattutto lo sguardo volto già alle regionali, alle elezioni per il rinnovo della regione il prossimo anno. Parla il deputato della Lega, ma anche coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, che dà lo stop al coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Il candidato, ha detto Bellachioma, tocca alla Lega, lo aveva detto anche nei nostri studi nel corso della diretta elettorale di domenica sera. E siamo alla pagina del centro dedicata all'edizione di Teramo, anche in questo caso si parla di politica in chiave teramana, perché Paolo Gatti annuncia l'abbandono della politica, lascio una politica malata, i motivi del ritiro troppi incompetenti e scorretti. Non ci sto più, poi vedremo più avanti un servizio. A proposito di Teramo, prime mosse su Giostre e Coppa in Teramnia, parla il neosindaco Gianguido D'Alberto, che vedete in comune ha incontrato il commissario Luigi Pizzi, incontro proprio per il passaggio di consegne tra il commissario e il nuovo primo cittadino di Teramo. Vediamo le altre notizie. Indagato rivenditore manipolava contachilometri delle auto usate e poi discarica la torre, riparte il processo imputato Chiodi. E poi ci spostiamo a Martinsicuro, i commercianti non vogliono le sagre d'estate. E noi andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, la tassa di soggiorno sui migranti. Chieti scoppia la polemica per la proposta avanzata da Forza Italia. E poi Ortona piange Gaetano, il giovane cameriere ed attore, morto nel sonno all'età di 29 anni. Vediamo anche le altre notizie che arrivano da Chieti e provincia. Siamo a Chieti, Università aiuti economici agli studenti, un fondo di solidarietà per aiutare i ragazzi che studiano all'Università d'Annunzio. E poi Lanciano, strade e frane le emergenze dopo il diluvio. Ancora Lanciano, droga in città spacciata con gli sms. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Siamo a L'Aquila, palazzi crollati, nessun colpevole, dossier sugli edifici a rischio, in fumo l'inchiesta che mirava ai politici. E a Capestrano, scoperte nuove tombe nella terra del guerriero di Capestrano, proseguono gli scavi archeologhi al lavoro, alla ripresa dei lavori che hanno permesso di far venire alla luce. Quattro sepolture. Vediamo anche le altre notizie. Marsicano muore a 30 anni in Umbria, misteriosa fine di un ragazzo marsicano di origine che era in Umbria per motivi di studio. E poi a Carsoli, la cronaca, spara il figlio e prende a botte la moglie, arrestato un uomo. A Sulmona, strada chiusa per la frana. Dimenticata questi titoli che riguardano l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, pagati anche per picchiare. Siamo all'inchiesta della Guardia di Finanza sugli arresti dell'altro giorno a Pescara, l'attività del clan Rossoni, droga, lesioni, racket, rapine, pestaggi su commissione. Oggi gli interrogatori, gli investigatori della Guardia di Finanza che hanno eseguito gli arresti due giorni fa a Pescara, dietro il pizzo, una malavita senza morale. Questo è il titolo di apertura che riguarda proprio l'operazione della Guardia di Finanza dell'altro giorno. Intanto a Pescara è stato arrestato un giovane per la rapina commessa qualche giorno fa ad un supermercato di via Rigopiano. E poi la vicenda delle intossicazioni dei ragazzi delle scuole di Pescara, cibi tossici, ammenza in arrivo le colture e dunque si continua ad indagare su quanto accaduto qualche giorno fa. Si parla poi della nuova Pescara, in realtà si parla della nuova Pescara da tempo, il battesimo dal 2022 al 2024, l'opposizione di centrodestra prende tempo. Prima dovremo fronteggiare altri turni elettorali perché tra l'altro il prossimo anno si tornerà a votare alle amministrative sia a Pescara che a Montesilvano. Poi vedete la fotonotizia di centro pagina, il nodo parcheggi nel centro di Pescara, aree di risulta, sosta a 9 euro al giorno. Vediamo anche gli altri titoli della prima pagina del messaggero Abruzzo, in basso uno che riguarda Teramo, i nuovi poveri sono le famiglie, ma il discorso è allargato a tutta la regione. Vediamo in alto poi altri richiami di articoli che troveremo all'interno del giornale. Cronaca Cassoli spara il figlio per gelosia ma fallisce il bersaglio. Calcio l'Aquila, domani periusse il giorno della verità. Pescara Leone verso l'addio e nel mirino di Candeloro perché se l'imprenditore casolano dovesse rilevare l'Ascoli sarebbe Luca Leone, il nuovo direttore sportivo della formazione bianconera. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, in questo caso il titolo di apertura riguarda ovviamente le recenti amministrative di Teramo, il ballottaggio con l'elezione a sindaco di Gianguido d'Alberto che riparte dal commissario, emergenza, bilancio e ricostruzione stretta di mano tra il sindaco eletto ed il prefetto Pizzi. Vediamo un titolo in alto che riguarda la nostra regione, l'associazione Romani querela il ministro Salvini dall'Abruzzo all'esposto sulle frasi sui Rom. Vediamo anche un altro titolo che riguarda Silvi, in questo caso anche qui reduce la cittadina adriatica dal ballottaggio domenica scorsa, il neo sindaco Scordella, uffici più snelli ed eventi estivi, le priorità del primo cittadino. E poi ancora amministrative in ereto, ecco l'aggiunta Laurenzi, stasera l'ufficialità durante il primo consiglio comunale. E poi in basso, fede e scienza si incontrano al forum organizzato dal vescovo di Teramo, Monsignor Leuzzi. Lasciamo la prima pagina del quotidiano La Città, andiamo a vedere l'edicola nazionale con le prime pagine dei giornali oggi in edicola. Partiamo dal quotidiano Repubblica, PD nasce il fronte Zingaretti, Orlando è il nome più forte, via il decreto di Maio, stop alla pubblicità sui giochi d'azzardo. E poi l'Istat, 5 milioni di poveri nel nostro paese, due titoli ovviamente riguardano questioni diverse. La prima, la rinascita del Partito Democratico e poi il decreto di stop alla pubblicità sui giochi d'azzardo. Vedete poi in alto questa foto l'abbraccio tra il primo ministro francese Macron e Papa Francesco. C'è stato l'incontro tra il pontefice ed il numero uno dell'Eliseo, un incontro molto importante in cui si è parlato anche e soprattutto della questione migranti. Vediamo la prima pagina della stampa di Torino, Di Maio la svolta protezionista, non ho paura di imporre i dazi e chiede all'Unione Europea maggior tutela per i prodotti agricoli. Del Madinitoli, anche sulla stampa la foto dell'abbraccio tra Macron e Papa Francesco. Conte tratta con Merkel e Macron. Salvini, non ci sta. Vediamo anche il Fatto Quotidiano. Vitalizi, l'inizio della fine, il titolo di apertura del Fatto. Il taglio, stando ai primi calcoli, porterebbe ad un risparmio di 30 milioni. E poi in alto i boss al 41 bis terrorizzati da 5 Stelle e dal procuratore Di Matteo. Ora non usciamo più il capo mafialo piccolo, leggiamo da questo titolo, avrebbe detto, questi ci toglieranno pure la liberazione anticipata, eppure lui è all'ergastolo stativo, l'ex braccio destro dei Graviano, noi siamo già stretti, più di questo non possono fare. Vediamo anche la prima pagina del Corriere della Sera. Nave a Malta, Europa divisa, questo è il titolo di apertura del Quotidiano milanese, caso l'Affline, patto segreto contro Macron. Ma Berlino, Madrid e Laia frenano. Ovviamente anche il Quotidiano milanese, il Corriere della Sera mette in primo piano con una foto l'incontro tra Macron e Papa Francesco. E poi il lavoro, governo stretta sul lavoro a termine e Fico, il Presidente della Camera, dice stop ai vitalizi da subito. La prima pagina del messaggero nazionale, Conte Macron, l'intesa segreta ma Berlino blocca la nave a Malta. E poi vedete l'abbraccio invece tra Conte e Macron davanti alla casina Valadier a Roma, il primo ministro francese ha incontrato il pontefice ma anche il Presidente del Consiglio Italiano. E poi una notizia che arriva da Roma, talpa in procura al soldo della Camorra, arrestati sei poliziotti. Siamo al tempo, altro quotidiano romano, aboliamo i municipi di Roma, nessuno vota e non servono. Ogni anno il Campidoglio paga 8 milioni di stipendi per la minicasta. E poi vedete anche sul tempo la foto dell'incontro tra Macron e Papa Francesco. Siamo al libero, Macron si appende alla veste del Papa, titola libero, l'Europa val bene una messa, il Presidente è corso a Roma a scrive libero, sbaciucchiare il pontefice. E poi, buona fede, ministro senza coraggio, gli avvocati criticano il neo guarda sigilli. Vediamo anche il manifesto, giochi con le frontiere, questo è il titolo del quotidiano manifesto, mille tra poliziotti e soldati contro finti profughi che assaltano il confine. L'Austria organizza una mega esercitazione antimigranti alla frontiera con la Slovenia. Poi vediamo anche sul manifesto il titolo che riguarda il rapporto dell'Istat, il record di poveri oltre 5 milioni, il più alto dal 2005 ad oggi. Di Maio rilancia con il ministro Tria, subito il reddito di cittadinanza. Siamo al quotidiano genovese, il secolo XIX, migranti, ora è l'Italia a respingere. E poi Genova, la battaglia del Kebab, il comune verso lo stop e i negozi etnici nei vicoli del centro storico di Genova. Vediamo la verità, il quotidiano La Verità. Finisce l'era dei tassisti del mare, il braccio di ferro dà risultati. Malta cede e apre il porto alla Lifeline, l'equipaggio sarà inquisito e i profughi smistati in altri paesi europei. In alto, l'inchiesta che può travolgere il giglio magico, scrive il quotidiano La Verità. Il PM che indagava sull'amico De Renzi aveva dei guai da risolvere alla CSM. D'Agostino lo portò da Lotti e da Legnini, scrive il quotidiano La Verità. E poi c'è un titolo che riguarda il Vaticano, a Monsignor Galantino, le chiavi del forziere del Vaticano e dunque della Chiesa. Siamo ad avvenire, proprio il quotidiano della conferenza episcopale italiana. E proprio anche avvenire, riporta questo titolo che abbiamo visto qualche istante fa. Nuove nomine in Vaticano, Galantino sarà il presidente dell'Apsa, l'esperienza cei come in famiglia. E poi i poveri a 5 milioni, secondo l'Istat la situazione è peggiore dal 2005. Poi il Papa Macron, ascoltiamo i più deboli, ha detto il Pontefice. Poi i rifiutati verso Malta, difficile intesa europea, incontro anche tra il presidente francese e Conte. Vediamo anche il Sole 24 Ore, stretta, il quotidiano economico, il titolo principale, stretta sugli incentivi a chi riduce. L'occupazione, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Un altro titolo che riguarda la rottamazione, addio a incassi per 9,6 miliardi di euro. Sole 24 Ore era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Ora possiamo tornare a parlare delle questioni di casa nostra. Possiamo tornare al quotidiano Il Centro, partendo dalla cronaca regionale. Ovviamente ci sono anche le reazioni che riguardano le amministrative, i ballottaggi di domenica scorsa. Ma il titolo di pagina 2 riguarda proprio il rapporto dell'Istat. Abbiamo visto sui quotidiani nazionali, su tutti i quotidiani nazionali, questo nuovo rapporto sicuramente allarmante. 5 milioni di poveri in Italia e anche in Abruzzo. Le cose non vanno decisamente bene da questo punto di vista. Vedete il titolo. Le famiglie in povertà salgono ad 86 mila nella nostra regione. Il dato peggiorato del 5,7% in un anno. L'economista Pino Mauro dice che è sorprendente, visto che la regione vive un periodo di ripresa. Questo è il pensiero dell'economista Pino Mauro. Vedete anche la foto del professor Mauro in basso. E poi c'è l'allarme di Save the Children per quanto riguarda i minori a rischio. In basso, assunzioni imprese, piano straordinario. Il vicepresidente Lolli lo ha presentato a Pescara. Domani se ne discute ad Avezzano. Era stato presentato questo piano anche nei giorni scorsi nella sede pescaresse della regione in Viale Bovio. Vi dicevo delle reazioni anche forti alle amministrative e ai ballottaggi di domenica scorsa, ma un po' in generale ai risultati delle ultime amministrative e non solo perché la Lega alza la voce e dice a Forza Italia ora tocca a noi stop del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma al coordinatore regionale di Forza Italia Pagano. Il candidato governatore, uno dei tre parlamentari eletti in Abruzzo, ha detto Bellachioma. E domani arriva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti. Dunque nel centrodestra è Baruffa per il candidato delle prossime elezioni regionali. E da Pescara intanto parte la denuncia a Salvini per odio razziale, denuncia della fondazione Romani. Vedete poi in basso le foto di possibili eventuali candidati per la nostra regione nel centrodestra. E intanto, cambiando argomento, restando sempre però in ambito politico, c'è un nuovo scontro sui tagli dei piccoli ospedali. Il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febo questa volta non attacca Paolucci, ma la proposta di legge presentata dai 5 Stelle. I nuovi voli dall'Abruzzo, dall'aeroporto di Pescara. Si va a Barcellona tre volte a settimana e la saga presenta a Catania i collegamenti proprio con Pescara. Lo aveva fatto anche qualche giorno fa nel capoluogo adriatico. Vedete la tabella con tutti gli orari aggiornati di partenze. E arrivi in basso, a fondo pagina, la trovata dell'ortonese Cipollone. Tutta la costa in dieci giorni a piedi e in canoa da San Salvo a Martinsicuro e ritorno per promuovere la nostra regione. Siamo a Pescara, rinasce l'ex Palazzo dei Vigili, lo storico edificio Ex Omni di Via del Circuito, una centrale per 348 telecamere. Questo l'obiettivo della nuova costruzione che vedrà la luce tra qualche tempo. Ieri sono stati consegnati i lavori. Si è parlato anche del patto proprio sulla sicurezza che riguarda Pescara. Lo aveva fatto nei giorni scorsi anche l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro. Ne ha parlato ieri il sindaco proprio sulla nuova destinazione d'uso del Palazzo Omni. Andiamo ad ascoltare proprio i nostri microfoni l'intervista con il primo cittadino di Pescara, Marco Alessandrini. Consegnati ufficialmente questa mattina i lavori per l'ex Omni di Pescara, sindaco Alessandrini, questa è una struttura, questo è un immobile che voi volete riqualificare? L'ex Omni negli anni 30 ospitava i bimbi orfani, poi ha avuto lunghe chiusure, per un po' è stata la sede della Polizia Municipale. Noi avevamo la necessità di trovare fondi sufficienti, un milione di euro circa, per completare i lavori, per evitare naturalmente che si ascrivesse alla lunga e lamentosa lista delle opere incompiute. Abbiamo trovato un accordo molto vantaggioso con Pescara Energia, una società partecipata pubblica gioiellino del Comune di Pescara, che si è assunta all'onere del completamento, e quindi Pescara Energia che paga lavori che complessivamente valgono 750 mila euro circa, che dureranno un anno e che determineranno il completamento della struttura. In questo modo Pescara Energia avrà una nuova sede e il sistema pubblico risparmierà l'affitto dei soldi che oggi si pagano per la sede attualmente in cui è ubicata Pescara Energia. E di contro Pescara Energia occuperà la metà dell'edificio, l'altra metà sarà sempre nella disponibilità del patrimonio pubblico e noi pensiamo di fare lì la casa della protezione civile. Il perno di questo sarà tuttavia una centrale operativa per la videosicurezza, è un progetto molto importante con la prefettura, vi partecipiamo da un lato insieme ai comuni della Corona, cioè Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, e dall'altro autonomamente. Ci sono dei finanziamenti, c'è una quota di cofinanziamento che mettiamo e contiamo, ma di questo dobbiamo parlarne fra almeno un mesetto, che appunto quel luogo possa divenire il centro di Pescara sicura. E a proposito di Pescara, vedete a fondo pagina così la nuova Pescara non nascerà mai, il centro-destra contesta il testo della regione, mancano tempo e denaro per la fusione dei tre comuni. Allora andiamo a vedere il servizio con l'intervista che abbiamo realizzato, uno dei consiglieri comunali di Forza Italia presenti ieri alla conferenza stampa, l'ex sindaco di Pescara Luigi Alboremascia. Ormai la questione se si debba realizzare o meno questa nuova entità importante, diventerà una delle città più importanti in Italia, è un problema superato perché tutti hanno preso contezza e coscienza dell'esito di un referendum che c'è stato quattro anni fa e i cittadini hanno deciso che questo percorso si debba fare. Quello che ci lascia molto perplessi sono i tempi invece, cioè ravvicinarli, attuare già dal 1 gennaio 2022 una fusione che comporta una serie di processi, di articolazioni e di percorsi molto complicati che possono creare, se accelerati in maniera improvvisa, possono creare disagi soprattutto ai cittadini. Oltretutto si sono persi altri sei mesi da parte del Consiglio regionale, solo questa settimana registriamo un'improvvisa accelerazione da parte del Partito Democratico, quello stesso Partito Democratico che ha un Presidente della Giunta regionale che in questo momento occupa due posizioni incompatibili, quello di senatore e quello appunto di Presidente della Giunta regionale. Cosa comporta questo? Comporta che c'è il rischio concreto che atti importanti come quelli che potranno essere assunti proprio rispetto alla nuova Pescara possano essere nulli o comunque improduttivi di effetti che un giorno qualcuno con l'autorità giusta possa dichiarare nulli questi atti e quindi dire signori abbiamo scherzato. Allora il tempo è importante, le decisioni sono state assunte, però noi chiediamo di riflettere sul fatto che oltretutto due comuni entreranno in campagna elettorale già tra qualche mese perché si voterà a Pescara e si voterà a Montesilvano nel 2019 e quindi chiediamo che venga assegnato un termine diverso, lo chiediamo ai nostri consiglieri regionali ma lo chiediamo all'intero Consiglio regionale in virtù di questa serie di rilievi. Intanto la provincia di Pescara bussa a soldi, case immobili in vendita, pubblicati gli avvisi per l'alienazione dei beni immobili ci sono anche l'ex Napolplast e una palazzina di via Cesare Battisti. Poi la cronaca con due episodi accaduti ieri a Pescara, in provincia di Pescara in questo caso l'automobile in panne sui binari rimane bloccata tra le sbarre accaduto a manopello determinante l'intervento degli agenti della Polstrada del distaccamento di Piano d'Orta che sono riusciti anche ad avvisare in tempo le ferrovie dello Stato per bloccare, per fermare il treno che era in arrivo, ovviamente le persone all'interno dell'auto erano scese immediatamente e poi camioncino dell'ANAS tamponato sulla variante di Pescara un ferito, un operaio dell'ANAS fortunatamente non in gravi condizioni. E poi ancora Pescara, la pista ciclabile pulita dalla LAD, abbiamo visto la fotonotizia nella prima pagina dell'edizione di Pescara del centro e poi lavori dell'ACA dalle 22 di domani niente acqua in alcune vie dei colli e poi via delle fornaci mille firme per salvare le due querce. Oggi sopra luogo dei tecnici, avevamo parlato di questa vicenda anche nei giorni scorsi proponendovi dei servizi in merito e poi parla il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli via di Campli rispetta il codice della strada, lo ha detto il vice sindaco dopo le polemiche sui nuovi lavori dell'arteria nella zona dei colli di Pescara. Siamo ancora alla cronaca, pizzo ai commercianti, oggi gli interrogatori, questa mattina davanti al giudice Rossoni e figli insieme a Giovanni Di Blasio sono accusati di aver chiesto denaro il minacciato di ritorsioni le vittime. E poi dottore Rossoni, Michele con noi, non c'entra niente. Andiamo ancora avanti, siamo sempre a Pescara con corso all'arta, la gara l'avrebbe vinta Tenaglia, pubblicate le motivazioni del Tribunale sulla soluzione con formula piena dell'ex direttore Fernandez e dell'avvocato, nessuno scambio corruttivo. E poi ancora cronaca, assalto alla deco presso il rapinatore con la finta pistola. Proseguiamo ogni giorno 130 poveri in cattedrale, lo ha detto l'abbate della cattedrale di Pescara, della cattedrale della chiesa di San Cetteo, Monsignor Francesco Santuccione e tra l'altro alla vigilia proprio della festa di San Cetteo sono stati già venduti 7 mila biglietti della lotteria, questa mattina in comune a Pescara verrà presentato proprio il programma delle feste del patrono a Pescara. Siamo a Montesilvano, la città che non va, cimitero nel degrado, una bidonville, i cittadini denunciano la mancanza di decoro. E poi in basso, nuovo ponte, gli studenti scelgono il nome, venerdì alle 18 l'inaugurazione del secondo ponte sul fiume Saline, alla presenza dei presidenti dell'Unione, provincia italiana e variati della provincia di Pescara di Marco. Fusione di Attiva e Linda, il progetto piace alla CGL, nasce Ambiente S.p.a., il comune di Città Sant'Angelo ha già dato l'approvazione, l'iter si chiuderà ad ottobre, il sindacato ora sanare il rapporto con 12 lavoratori. In alto, galleria chiusa, l'ANAS solo manutenzione e circonvallazione, lavori dalle 22 nella galleria Pianacce. Montesilvano, ladri di biciclette, arrestato grazie al vicino di casa e poi Città Sant'Angelo torna sul luogo del furto, riconosciuto e denunciato. Siamo a Montesilvano, in basso, politica, fumo scelta dal centrodestra di Giovanni Risponde a Cili, il nostro assessore, espressione di NCD. Piazza Sant'Alfonso, slittano i lavori, siamo a Francavilla al mare, problemi con i sottoservizi, il cantere chiuderà a metà luglio e anche dalle vie adiacenti, chiedono interventi. E poi ancora Francavilla, vedete i rovi invadono la pista ciclabile, cartello abbattuto in via Montecorno e perdita d'acqua lungo la nazionale. A San Giovanni Teatino si tenta il servizio della FB Servizi, è atteso per venerdì l'ok al piano di rientro economico. Centinaia di persone alla Notte Romantica a Penne che rilancia anche altri eventi, prossimo appuntamento il 7 luglio e venerdì arriva invece la Notte Nera, il sit-in davanti all'ospedale San Massimo. Siamo a Bussi, bonifica della Tremonti, il ministero riattiva l'Iter. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti del centro, tassa di soggiorno a Chieti, paghino anche i migranti, proposta di un consigliere di Forza Italia, apre lo scontro con l'Udc e il voto salta, vitale non solo hotel, anche i centri di accoglienza versino un euro al giorno. E poi la sentenza annullato, il licenziamento della ASL all'ex assessore. E poi in basso lite per gli stipendi, vetro sfondato all'auto, diverbio nel cantiere di Palazzo d'Achile, tra operaio e imprenditore, fermato dall'intervento della Polizia. Siamo all'altra pagina di Chieti, fondi per aiutare gli studenti in crisi. Il CDA dell'adannunzio introduce la misura di solidarietà. E poi a Guardia Grele cadono pezzi di vetro dall'ex mercato, appello di Jacovella della Voce, bisogna metterli in sicurezza. In basso il regalo a Chieti, Lions donano 10 bandiere al teatro Marrucino. Mi offrì da bere, così arrivava la droga, messaggi in codice anche su WhatsApp tra spacciatori e clienti, chi viene controllato dei carabinieri. Poi avvisava il pusher, questa è l'operazione dei carabinieri di Lanciano, operazione denominata Pony Express. Atessa riallaccia i legami con gli emigrati argentini, visita da Firmat. E poi in basso a Frisa inizia l'era del sindaco Labrozzi, primo consiglio comunale, con il prefetto Corona. I cittadini al centro della vita amministrativa. Andiamo a vedere dunque il servizio sul primo consiglio comunale del piccolo centro dell'area frentana. Si è insediato alla presenza del prefetto di Chieti Antonio Corona il nuovo consiglio comunale di Frisa. Il sindaco neoeletto Nicola Labrozzi, visibilmente commosso nel discorso di insediamento, ha tracciato le linee programmatiche del mandato. Sala consigliare piena di cittadini ad assistere alla prima assise civica. Tra le priorità indicate dal sindaco, geologo di professione, la sicurezza della viabilità. Innanzitutto dobbiamo provvedere alla manutenzione delle strade, le strade rurali, perché stanno in uno stato un po' di abbandono. Abbiamo già cominciato a fare qualche piccolo lavoro, ma adesso stiamo rincorrendo all'emergenza, ma dobbiamo programmare per il futuro. In più dobbiamo pungolare un po' la provincia, perché abbiamo alcuni tratti delle strade provinciali che ci collegano a Ortona e soprattutto a Lanciano, che hanno delle criticità per quanto riguarda la sicurezza. Per non parlare dello stato di usura, però ci sono alcuni punti critici per la sicurezza e dobbiamo lavorare tanto, almeno per risolvere questi due o tre punti. Di professione geologo intende apportare delle novità per quanto riguarda l'amministrazione inerenti al settore che lei conosce? Sicuramente un aspetto a cui tengo molto è la gestione della regimazione delle acque, che è la principale causa dei dissesti lungo le strade. Già abbiamo iniziato a fare dei lavori veloci in emergenza, però questi lavori di pulitura di alcune cunette, in particolare dei punti critici, ci hanno permesso di non avere danni a seguito per esempio dell'ultimo evento piovoso eccezionale dell'altro ieri. Quindi gestione del territorio, gestione del territorio sotto tutti i punti di vista, in particolare per quanto riguarda anche l'aspetto di dissesto idrogeologico, perché il territorio di Frisa comunque ha delle problematiche e delle criticità abbastanza importanti. Già ci sono dei progetti di consolidamento portati avanti, ma necessitano altri che metteremo a breve in cantiere. Andiamo avanti, siamo ad Ortona, tutta la città per Gaetano, ciao Angelo del Paradiso Folla, l'ultimo saluto al 29enne cameriere attore morto nel sonno, padre Camillo, giovane meraviglioso, l'addio sulle note di Mare Nostre, vedete le foto sull'ultimo saluto a questo giovane ortonese di 29 anni. In basso andiamo a Fossacesi, a noi in costa dei Trabocchi diventa un sodalizio e ci spostiamo nella parte nord della regione, da Ortona siamo a Silvi, Comignani pago il fallimento del Partito Democratico, l'ex sindaco attribuisce la sconfitta al trend politico nazionale, ora opposizione costruttiva, lasciamo lavorare, scordella le parole di Comignani. E poi vasto incendio a Silvi nel pomeriggio di ieri, tre ettari di sterpagli e fuoco, uomo intossicato dal fumo in basso, torna da venerdì lo Stiker Mule Festival a Pineto e a Casoli di Atri, di nuovo allagato il sottopasso. Allora possiamo fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio per continuare a leggere insieme i giornali nella seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, di nuovo in studio, siamo alla pagina di Teramo del centro, dopo le elezioni comunali arriva un annuncio clamoroso di Paolo Gatti, addio definitivo, la politica non mi piace più, il più votato in regione spiega così il ritiro, regnano a rivismo, incompetenza, ipocrisia, violenza verbale e scorrettezza a 43 anni, non ho più stimoli, voglio una vita diversa. Morra senza di lui, centrodestra più debole, pagano, lasciamolo tranquillo, merita ruoli di rilievo. L'eurodeputato Patriciello spero che ci ripensi. E intanto visita in municipio del neosindaco D'Alberto, prime decisioni per Giostre e Interamia, il sindaco affronterà subito i problemi delle quattro attrazioni sfrattate dall'area della Madonna delle Grazie e delle scuole in cui ospitare gli atleti della Coppa. Ieri l'incontro con il commissario del comune di Teramo, Luigi Pizzi, ma sul questione amministrativa Teramo sul dopo elezioni possiamo andare a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'effetto d'Alberto, sindaco di Teramo, ha già prodotto ripercussioni politiche fortissime sugli sconfitti di centrodestra. A pagarne le conseguenze più sanguinose è Paolo Gatti, leader indiscusso e campione di preferenze in questi 14 anni di modello Teramo, sia in comune che in regione. A lui i cittadini probabilmente non hanno perdonato l'aver fatto commissariare l'amministrazione Brucchi per poi presentarne nuovamente una sostanziale fotocopia. Se a Teramo il centrodestra avesse vinto, per Gatti si sarebbe profilata la possibile candidatura a presidente della regione Abruzzo e invece è stato il primo a sparire dalla rosa dei futuri candidati governatori. E così, sparigliando ancora le carte, alle prime ore della mattina, l'attuale vicepresidente del Consiglio regionale affida a Facebook il suo addio definitivo alla politica. Scrive testualmente Gatti, ho riflettuto a lungo, in piena solitudine, per una volta non ho condiviso con nessuno, anche se alcuni lo avevano capito da tempo ed hanno fatto di tutto per dissuadermi. L'ho stabilito da alcuni mesi, ma lo dico e lo scrivo oggi, proprio nel giorno in cui Lino Silvino avrebbe compiuto 72 anni. In buona sostanza non mi piace più una politica che non ha nulla a che fare con la politica in cui credevo io, quella delle cose da fare per la comunità. Non mi ritrovo in un ring in cui vince chi chiacchiera di più o chi urla più forte e dove gli atti concreti passano spesso in secondo piano. Non mi ritrovo in un campo di battaglia popolato da tanti maldicenti, che sanno solo svolgere attacchi personali del tutto infondati, ma non hanno mai prodotto nulla per il proprio territorio e i propri concittadini. Il pensiero sottaciuto di Gatti va senza mai citarlo a Mauro Di Dalmazio, che avrebbe fatto votare in blocco contro Giandonato Morra e messo in atto un palese tradimento. In questo lungo posto di addio alla politica l'amarezza di Paolo Gatti è grande, ma a lui tanti amici e altrettanti nemici politici gli rendono pubblicamente l'onore delle armi. Ma questa è la politica a bellezza. Anche il nuovo sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, avrà presto le sue grane nel designare i sei o al massimo i sette assessori della sua giunta e a tenere unite le diverse anime civiche e partitiche nel governare la città. Il nuovo consiglio comunale sarà proclamato giovedì prossimo. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro. Le indagini post-sisma, edifici pubblici crollati, nessun colpevole. Cronaca, giovane accoltellato, sospetti su altri tre. In basso il parco della memoria, lavori entro un anno. Il vice sindaco punta a realizzarlo per il 6 aprile 2019. Scongiurato il taglio di 13 grandi alberi. Nuove tombe dalla terra del guerriero Capestrano scoperte quattro sepolture nell'ambito della ripresa del progetto di scavi pronte iniziative per valorizzarle. Tesoro d'arte libraria apre le porte alla città. La fondazione De Marchis Bonanni Docre mette in mostra 10 mila volumi a Palazzo Cappelli K. Tasse oggi al Senato, voto sul decreto sisma. L'Aquila è termina attesa del varo delle proroghe per il capoluogo regionale, il braccio di ferro con l'Unione Europea. Tragedie in Umbria, morte misteriosa in casa, soli 30 anni. Studente marsicano trovato dopo l'allarme dei vicini, si ipotizza la caduta dopo un malore. La procura avvia le indagini. A Carsoli la cronaca spara il figlio e riempie di botte la moglie. Padre e marito violento arrestato per tentato omicidio. Ad Avezzano, semafro rosso, arriva l'impaccabile The Red. Telecamere in via 20 settembre da luglio, 200 infrazioni al giorno in fase sperimentale, senza multe. A Sulmona, frana dimenticata, strada chiusa, le vibrazioni delle auto minacciano le case di viatturati residenti. Nove anni di promesse. E poi venerdì in cattedrale il vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Fusco, coordinerà due sacerdoti. E a Pacentro ha firmato l'accordo per i lavori sulla strada regionale. In basso apprezza al via la riqualificazione delle strutture sportive. Siamo arrivati allo sport, dobbiamo però attendere per andare prima a leggere insieme le pagine interne del inserto abruzzo del messaggero. La politica che cambia la ricetta dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Noi tra la gente, senza avere paura. E poi la bomba ecologica, bonifica di bussi. Il ministro diffida la regione. Siamo a Pescara, la nuova Pescara meglio nel 2024, lo chiede il centrodestra pescaresi. Abbiamo visto prima il servizio. E poi aree di risulta a Pescara, i parcheggi dell'area di risulta della stazione, e gli incassi per fasce orarie. Sosta a 9 euro al giorno. Andiamo avanti. Dietro il pizzo, ma la vita senza morale, il clan Rossoni. Non solo racket e danni dei commercianti, ma anche recupero crediti per conto di altri committenti. Proseguono le intagini della finanza dopo gli arresti dell'altro giorno. E poi assalta il market con una pistola di scena. È stato arrestato dai carabinieri. E poi a Manopello, Suzuki vicino ai binari, circolazione rallentata con l'intervento della polizia stradale. Pronto il secondo ponte sul Saline, il viadotto è lungo oltre 103 metri e unirà la sponda opposta angolana. Città Sant'Angelo. I ladri elegantoni finiscono nella rete dei carabinieri. All'Aquila, perdonanza, cambierà poco. Sì, alla dama. No, alle miss. Tornano coinvolti Piccirilli e Di Matteo. Sono stati per anni l'anima del corteo. E le carte storiche del 1929, 80 lecci in piazza Duomo. Documenti che riguardano proprio la storia dell'Aquila. E Monsignor Petrocchi, domani sarà cardinale. Chiederò al Papa di venire in città. L'intervista del prossimo cardinale, il vescovo dell'Aquila, che domani sarà ordinato da Papa Francesco. Movida di sangue, Moldavo ferito. L'aggressore oggi sosterrà l'interrogatorio. Non ricostruire a Via Campo di Fossa il legale di una famiglia che ha perso un figlio. Chiede di rispettare il dolore di tanti. Parco della memoria. C'è l'accordo dopo un incontro in comune e l'annuncio del vice sindaco Liris. Vogliamo realizzarlo entro il decimo anniversario del terremoto. E a Sassa il concorso di progettazione per la scuola in testa. C'è la fabbrica del sapere. Il teatro stabile abruzzese sbarca Pineto e Pescara. Tanti e nuovi progetti per la rassegna teatro a impatto zero. E gran serata alla piscina con il concerto di Fabio Concato. Siamo nella Marsica. Picchia la moglie e spara al figlio. È caduto a Carsoli. È stato arrestato l'uomo per tentato omicidio. Celano blitz della procura in municipio. Convocato il consiglio comunale. Sul Mona cede la strada. Altre transenne inviaturati. Roccaraso torna il paradiso dello sport per i piccoli. Ancora sul Mona. Scuola Masciangoli. Genitori delusi a Vezzano. E ora rilanciamo Palazzo Torlonia. Se ne era parlato anche l'altro ieri in regione a Pescara con il presidente della giunta Luciano D'Alfonso ed il sindaco Gabriele De Angelis. Siamo a Chieti. Il giudice boccia l'ASL d'Agostino. Va reintegrato. E poi la tassa di soggiorno anche per i migranti. La proposta di Vitale di Forza Italia anima il dibattito. Il caso arriva in consiglio. Venerdì. Andiamo nella parte bassa della pagina. Palazzo d'Achille. Litre e vetri rotti. Arriva la polizia. E poi spara il cane del vicino. Denunciato dai carabinieri. Offrimi da bere lo spaccio. Offrimi da bere. Scusate lo spaccio in codice. La maxiretata dei carabinieri a Lanciano svela il linguaggio cifrato tra i clienti e pusher Frentani. Da domani gli interrogatori. C'è stata questa operazione dei carabinieri proprio per lo spaccio di droga in città. Ancora Lanciano. Opere. La Paolucci. Progetti vecchi e rabberciati. Vasto. Consorzio Bonifico Sud. La replica di Amicone. Ancora Vasto. Comune all'asta. Immobili per un valore di 4 milioni. E a Ortona. Tanta gente. Per l'addio a Gaetano. Il 29enne morto per un malore. Chiesa strapiena per il giovane attore e cantante. In basso andiamo a Lanciano. Noi costa dei trabocchi. Per promuovere il territorio. Siamo a Teramo. Le famiglie con i bambini. Ecco i nuovi poveri in città. Aumentano anche nella nostra regione. secondo i dati dell'Istat. E poi le gare di solidarietà per aiutare i bisognosi. Stato assente. A centropagina. Caro Pedaggi. Al sit-in. Al MIT. Anche la provincia. Oggi la manifestazione. A Roma. E a 16 anni. A Giulianova. Scappa di casa per andare sulla riviera. Romagnola. A Castrogno. Ex detenuto. Porta la droga. In carcere. Alla compagna. Siamo a una pagina di Giulianova. Vigilanti in spiaggia contro gli abusivi. E poi nessuna risposta dal comune alla richiesta d'occupazione del suolo e quartiere annunziata via le passerelle in cemento armato. Ci spostiamo ad Alba Adriatica. Dunque nell'area vibratiana. Luci e ombre sullo turismo ad Alba. Case sfitte. Sorridono solo gli hotel a Martinsicuro. Sagre. I commercianti non ci stanno. Sono troppe. Rinviarle dopo l'estate. E siamo alle pagine del quotidiano La Città. L'associazione Romani querela il ministro Salvini. Il presidente Guarnieri presenta un esposto in procura contro le frasi sui rom del ministro dell'interno. E poi post-sisma. Questo l'articolo di spalla. Quagliariello spinge per approvare la norma sulle tasse aquilane. In basso il ministero diffida la regione per il progetto della bonifica di bussi. Rinviata anche la conferenza dei servizi finale sulla riperimetrazione a causa di nuovi errori nei documenti. Teramo. Ripartiamo dal bilancio e dalla ricostruzione. Lo dice il sindaco Gianguido Dalberto nell'incontro con il commissario Luigi Pizzi. Dalberto il PD non mi voleva, perciò ho vinto qualche malumore in Casa Demme per un titolo di Repubblica sull'analisi del voto Teramano. Nuova giunta Dalberto. Per ora non se ne parla. Bisogna ancora attendere per conoscere i nomi dei nuovi assessori proprio della giunta comunale. Più facili le indicazioni delle civiche. Il PD punta sui voti ed il profilo basso. L'addio alla politica di Paolo Gatti. Dopo 19 anni, lascio il leader di Futuro Innes, piazza i suoi e tutto il centrodestra, annunciando di volere una vita diversa. Abbiamo visto prima il servizio di Tania Bonnici Castelli. Basta con la politica dell'insulto. Ripartiamo dai migliori. Il coordinatore azzurro, Vincent Fanini, lascia la porta aperta a Gatti. Per noi è una risorsa preziosa. La cronaca, beccato con la droga per la fidanzata in carcere, cinquantenne napoletano fermato e denunciato all'ingresso di Castrogno. Economia teramana in ripresa, nonostante tutto il rapporto della Camera di Commercio. Prima inversione di tendenza dopo dieci anni di crisi al netto dei disastri naturali. La fede incontra la scienza al Forum del Gran Sasso, esperti da tutto il mondo all'Università di Teramo, per la due giorni di convegni organizzata dal Vescovo di Teramo, Monsignor Leuzzi. Provincia, eventi estivi, il prefetto detta le regole di sicurezza. Ieri mattina incontro con gli amministratori locali, le proloco e i rappresentanti delle forze dell'ordine. E poi anche la provincia ha la manifestazione contro gli aumenti su strada parchi, oggi a Roma. Pronta la giunta del sindaco Laurenzi, siamo a Nereto, due uomini e due donne, nella squadra che verrà ufficializzata. Questa sera è a Santomero costretto a chiamare un vigile bergamasco per garantire la sicurezza alle sagre. E poi migliorano i conti del comune di Santomero, vedete in basso il titolo, l'amministrazione Luzzi approva il consuntivo 2017, diminuiscono anche gli interessi passivi. Giulianova truccava i tachimetri delle auto usate, il rivenditore Giuliese beccato dalla polizia stradale a truffare i clienti. E poi ad ottobre i lavori per demolire le passerelle, accolte le richieste del comitato cittadino sulle strutture inutili e pericolose. A Giulianova e sempre nella città Giuliese, intervento straordinario per rimuovere lo spiaggiato. Amministrazione comunale costretta ad un nuovo intervento dopo il maltempo e poi sedicenne in fuga trovata dalla polfer, era alla stazione. Siamo la pagina di Roseto e di Atri, serate ridotte per la voce troppo potente, a Roseto nasce un comitato antirumore contro il presentatore Giuliano. E poi caso di di Atri, bastano 5 minuti di pioggia per allagare il sottopasso ad Atri, polemica accesa sulla donazione d'arte rifiutata dal comune. In basso ancora a Roseto, ospiti d'eccezione a feste estate di Ambiente e Vita. Post voto a Silvi inizia il cambiamento, targato Scordella, vedete il titolo a tutta pagina, il sindaco Neoletto parte subito con due provvedimenti, riorganizzazione degli uffici ed eventi estivi. Brucia l'ester paglie, provoca un rogo 65enne intossicato ieri pomeriggio a Piomba Alta, frazione di Silvi. E poi la cultura, l'altra medicina, l'amore che cura, Roseto degli Abruzzi, la presentazione del libro di Giovanni Stanghellini. Possiamo passare così alle pagine di sport, iniziamo con i titoli dei quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, Messice, il vero mondiale di Leo comincia con un golasso dopo l'1-1 della Nigeria, il 2-1 liberatorio dell'attaccante argentino. Mister Milan ancora no, si alza il prezzo, Ricketts rilancia, ma commisso vuole il sì in 24 ore. E poi Juventus sbarca Cancelo che scatta sulla destra, Roma su Berardi pronti 20 migliore, il ninja, Nainggolan, Inter mi fai sentire, uno importante. Corriere dello Sport, l'Edidas de Dios, l'Argentina passa il turno con fatica e Diego festeggia la sua maniera. E poi il mercato, Pjanic resta seduto, Barca e Chelsea sul centrocampista bosniaco. E poi, Raja solo Inter, il nuovo Nainggolan si presenta, vedete, con la maglia nera-azzurra. Siamo a tutto sport, con i mondiali in primo piano, in prima pagina. Messi ribalta il mondo, il suo gol permette all'Argentina di sorridere. Poi fedelissimo Marchisio, nuova dichiarazione d'amore al Juventus. Milan, colpo di scena, ora Mr. Lee ai 32 milioni, saranno versati entro il 6 luglio, ma proseguono anche le trattative per la cessione. L'Inter mi ha fatto sentire importante, lo ha detto Nainggolan. Andiamo a vedere ora le pagine interne dello Sport dei quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro, Pescara rotta, play-off, ma vorrei vendere il club. Parla il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ci sono degli industriali italiani, ha detto Sebastiani, interessati il 70%. Vale 15 milioni in basso il mercato, chiesto di Marco. Canutè al Genova, trattativa difficile però per il terzino dell'Inter. Il senegalese Canutè, che ha giocato la scorsa stagione da gennaio ad Ascoli, nel mirino dei Liguri. Intanto è stato bocciato il piano di rientro, il Cesena, verso il fallimento. Andiamo a vedere la pagina che riguarda la Serie C, la Serie D. Il Teramo punta su Nocchi per blindare la porta e poi il Giulianova ha deciso. Nico Stallone è il nuovo allenatore. In basso, Atletica, la Sabatini ai mondiali under 20. La palla a volo, l'abruzzo maschile sfiora il grande colpo al trofeo delle regioni. Oggi in campo a Chieti, le donne stupiscano ed entrano tra le prime 12. Andiamo a vedere anche le pagine dello sport del quotidiano Il Messaggero. Pescara, Leone verso l'addio. Il direttore sportivo del Delfino nei quadri dell'Ascoli che Candeloro vuole rilevare. Questo ribaltone potrebbe essere alla base dei rallentamenti biancazzurri sul mercato. Calcio a 5. Cuzzolino torna in nerazzurro. Nuovo acquisto dell'acqua e sapone. In basso, Mammarella, coach della Sport Life, il presidente Serraiocco, dice vogliamo costruire una struttura forte partendo dalla base e dai ragazzi. L'Aquila, siamo la Serie D, domani per Ius è il giorno della verità, convocata all'Assemblea dei Soci dall'attuale amministratore David Miani. E poi il basket a Roseto, la nazionale maschile under 18. E poi il calcio di Serie D, Stallone è il nuovo allenatore del Giulianova. Giulianova, per quanto riguarda invece il Francavilla indirettamente, ma proprio il suo presidente Gilberto Candeloro, arriva la conferma, voglio comprare l'Ascoli. E come abbiamo visto, il nuovo direttore sportivo dei marchigiani potrebbe essere l'attuale DS del Pescara, Luca Leone. E siamo alla Serie C, al Teramo, pagati gli stipendi ai giocatori e allo staff. Possiamo chiudere con la pagina di sport del quotidiano La Città, che riguarda il Teramo, e non solo, ma soprattutto in questo caso il Teramo Basket, perché campioni del basket al torneo di Carmine, successo per l'evento dedicato al capo della tifoseria cestistica Teramana, ha scomparso prematuramente nel 2013 in basso. Il Nereto torna in eccellenza, grazie alla fusione con la Virtus Teramo, accordo suggellato dai due presidenti, Guarnieri e Di Filippo, il progetto è stato presentato al Sindaco e ai cittadini. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Io ringrazio Maurizio D'Aguin, regia, ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento per il prossimo appuntamento, scusate il gioco di parole, informativo della giornata di oggi, come sempre alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.